Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati su L'Infronio Universe e benvenuti per un nuovo astrocaffè da passare insieme. Quando ho parlato di galassie qui sul canale generalmente l'ho fatto ad ampio spettro, ho parlato di come si evolvono, come si scontrano, gruppi di galassie, ma non sono mai andato troppo in dettaglio su una singola galassia. Quindi oggi cercheremo di rimediare. Quindi faremo un po' come i zoologi che invece di concentrarsi su un branco prendono di mira un singolo esemplare e lo studiano sempre, da quando dorme a quando caccia a quando fa la cacca. Sempre. Quindi oggi parliamo di questo e ci mettiamo in testa il capello da zoologo e andiamo nella nostra avventura. Tra l'altro se siete anche solo un po' appassionati di astronomia o se in generale avete mai spulciato le gallerie di immagini del telescopio Hubble, c'è una buona possibilità che questa galassia vi sembri familiare. È una delle più iconiche e anche la foto scattata dal telescopio Hubble è veramente eccezionale. Si vede molto bene tutta la struttura, ci sono tanti contrasti e è veramente molto molto bella. Ma al di là di questo, perché interessa tanto agli astronomi? Cioè, sì, sembra un sombrero, bella foto, ma poi qual è la ciccia? Perché davvero tutti gli astronomi sono così entusiasti di osservarla in futuro e magari ottenere anche una foto del buco nero che risiede al centro di questa galassia? Beh, oggi parleremo di quello e partiamo però con la lavagna perché così almeno non ci perdiamo. Prima di tutto, la vera domanda è perché ha questa forma? Cioè, sì, sembra un sombrero, ma perché? Cos'è il successo? Perché non ci sono altre galassie che sembrano così? Ci sono alcune che somigliano, le vediamo da altre regolazioni, ma nelle vicinanze questa è una delle più particolari. e la prima cosa che notate, appunto, sono le bande molto scure che fanno da disco e quella parte centrale, molto luminosa, viene chiamata bulge o rigonfiamento. Le stelle del bulge sono molto molto antiche, sono bianche, le vedete come un alone bianco molto settile. Tutto quell'alone in realtà è pieno, pieno zeppo di stelle. Cioè, sembra una nebbiolina, ma in realtà è perché noi siamo molto lontani e vediamo tutta questa galassia insieme, quindi quella nebbiolina in realtà è piena zeppa di stelle. Nella parte del disco in realtà vediamo polveri molto scure, ma non ci sono grandi regioni di formazione stellare attive, ora. Infatti parleremo dopo di come potrebbe essere una galassia che sta lentamente morendo. Non ci sono moltissime nuove stelle che stanno nascendo né nella parte centrale e né meno nella parte del disco. Però, partiamo dalle basi. Dove si trova? Nella costellazione della Vergine, a una distanza tra 29 e 31 milioni di anni luce, ha un diametro molto più piccolo di quella della Via Lattea, cioè a circa 30%, con un diametro di 50 anni luce, e ha un nucleo molto attivo nei raggi X, che è stato uno dei primi indizi, tra l'altro, per farci sapere che forse c'era qualcosa di strano nel centro. A proposito del nucleo, dentro questo bulge, l'abbiamo osservato a varie lunghezze d'onda, ma una delle cose che abbiamo subito notato è che è un nucleo chiamato LINEAR. LINEAR sta per Regione Nucleare a Linee di Emissione a Bassa Ionizzazione, che sembra un modo per evocare un demone, se non sapete molto di astronomia, ma vi assicuro che in realtà è una cosa relativamente semplice. In pratica abbiamo visto che è pieno di atomi ionizzati, che hanno perso qualche elettrone. Quindi c'è qualcosa, una fonte di radiazione molto intensa, che strappa via elettroni agli atomi in questa regione della galassia. Cosa potrebbe essere? Beh, le ipotesi erano principalmente due. Una, metti che ci sono delle stelle molto, molto, molto radioattive, molto intense, magari molto grandi, e con la loro luminosità riescono a ionizzare tutta la regione intorno. Nella Via Lattea, per esempio, abbiamo esempi di stelle che riescono a fare questo, e quindi una delle idee è che magari nella zona centrale c'erano tante singole stelle che riuscivano complessivamente a darci questa impressione. La seconda ipotesi, invece, era che si trattasse dell'attività di un buco nero, quindi un nucleo che un tempo era attivo e che ha divorato enormi quantità di materia, ionizzando con l'energia del getto, oppure il disco che rimane intorno quando il buco nero mangia qualcosa, e quell'energia ha ionizzato la parte centrale della galassia. Quindi, come facciamo a verificarlo? Beh, la prima cosa da fare è vedere se ci sono stelle attive, quindi dobbiamo guardare all'interno per vedere che stelle ci sono. Il problema è che c'è un sacco di polvere nella regione centrale, oltre che un sacco di stelle, ed è difficile vedere attraverso. Quindi abbiamo guardato in una lunghezza d'onda apposta che ci permette di penetrare molto in profondità. gli infrarossi. E se guardate le immagini, ecco le immagini a infrarossi della galassia del sombrero, si vede una cosa incredibile, perché il nucleo sembra molto molto più piccolo. Le bande di polvere che fanno da disco intorno sono molto staccate, si vede molto più chiaramente. E una cosa che abbiamo scoperto guardando in infrarossi è che tutta la zona centrale non presenta segni di formazione stellare molto intensa, per cui l'ionizzazione probabilmente non viene da fonti di stelle particolarmente attive. E poi abbiamo guardato con altri telescopi come il CFHT e il Hubble Space Telescope per vedere, uno, come si muovono le stelle più centrali, due, se ci sono altre fonti di radiazione, tre, poi abbiamo guardato e abbiamo visto radiazione sincrotronica dalla regione più centrale. Tutte queste cose ci indicano principalmente la presenza di un buco nero. Le stelle, perché abbiamo visto stelle muoversi in orbite che non sono spiegabili senza avere un buco nero molto molto massiccio, e poi la radiazione che proviene da lì non sembra tipica di alcun tipo di stella, ma sembra tipica dell'interazione appunto di un disco intorno a un buco nero con le sue vicinanze. Quindi abbiamo iniziato a stimare in base agli effetti visti nell'arco degli anni 90 fino agli anni 2000 che massa potrebbe avere questo oggetto. E le stime attuali sono di una massa intorno a un miliardo di masse solari. Rispetto a, per esempio, il buco nero al centro della Via Lattea, che ha 4,3 milioni di masse solari, questo è enorme! Quindi è uno dei target per essere studiato in futuro con strumenti come interferometri spaziali magari per riuscire a vedere direttamente l'orizzonte degli eventi di questo buco nero. E magari questo ci aiuterà anche a capire meglio la storia di come mai questa galassia è finita in questo modo. Anche perché questo ci potrebbe dare un indizio non solo su come si evolvono le galassie, ma anche come muoiono. Perché una cosa che abbiamo notato nel gas, nella polvere che circonda il bulge centrale, è che al di là della massa molto grande, di circa 800 miliardi di masse solari complessiva, in realtà non sembra esserci appunto molto gas che potrebbe formare nuove stelle. Ed è stato strapato via. Magari è stato ionizzato dall'attività del buco nero, magari semplicemente non c'è molta attività perché questa galassia non interagisce da moltissimo tempo con altre galassie. È difficile dirlo, però un'altra cosa che ci aiuterà sicuramente sarà il gruppo di ammassi globulari che vediamo intorno. Cioè la Via Lattea ne ha centinaia o poco più di questo tipo e questa galassia ne ha oltre 2000. Quindi è tipo su steroidi. E se siete curiosi del cosa sono gli ammassi globulari, sono ammassi di tantissime stelle, tutte e tutte ragomitolate, praticamente in un gomitolo cosmico, circondano l'allone delle galassie, praticamente sono tutto intorno alle galassie e la loro origine è ancora studiata. Potrebbe essere che sono resti di interazioni delle galassie con altre galassie, alcune potrebbero essere appunto nuclei di vecchie galassie mangiate, altre potrebbero essersi formate nell'infanzia primordiale della galassia. Lo stiamo già studiando per questa galassia, stiamo cercando di catalogare l'età di varie ammassi globulari e quindi come umanità penso che abbiamo una chance buona in futuro di scoprire qualcosa di più sulla galassia sombrero, oltre alla sua forma ovviamente. Per adesso però sembra davvero una galassia che sta piano piano morendo con al centro un buco nero di un miliardo di masse solari. Speriamo che futuri studi possano svelarci di più su cosa gli è successo e come potrebbe evolversi in futuro. Per adesso io vi saluto, un abbraccio a tutti voi, continuate ad essere meravigliosi. Eccoci arrivati nella end card e volevo solo menzionarvi che se siete appassionati per esempio di supereroi e cinecomiche eccetera, in realtà c'è un supereroe che viene dalla galassia sombrero nell'universo DC, si chiama Vartox. È stato modellato più o meno su Sean Connery perché andava molto di modo, Sean Connery in generale come attore, è un film di fantascienza che aveva fatto, chiamato Zardoz. e quindi avevano creato questo eroe che sembrava tantissimo, tantissimo Sean Connery. Aveva un sacco di poteri random ed era presente nell'universo di Superman. Viene dalla galassia sombrero, è invulnerabile, può trasferire i suoi poteri ad altri, vola, telecinesi, insomma il pacchetto standard di supereroe villain degli anni 60-70. e compare nel pilota della serie tv Supergirl. Quindi, ecco, ora sapete che l'universo DC ha preso anche dalla galassia sombrero. Fatti che non vi interessava sapere, ma ora li sapete. E probabilmente c'è un fatto molto importante che avreste dovuto sapere che ora vostro cervello ha rimosso e ha piazzato questo. Complimenti, ora sapete dell'esistenza di Vartox e magari vi siete scordati dove avete messo le chiavi. Prego, sempre qui per voi. Ciao, ci vediamo presto, un abbraccio.